Il simpatico Cledicadio, il famoso ballerino albanese di Amici, il programma di Maria De Filippi, è stato ospite di recente a Vieni da me, il programma condotto dalla bella, brava e simpatica Caterina Balipo. E proprio il buon Cledicadio si è aperto a 360 gradi, ha parlato di sé in maniera particolareggiata, non ha peccato di ingenuità e o di malizia, però è stato comunque all'altezza della situazione. In sua compagnia c'era ovviamente anche l'amata moglie, la quale ha la domanda che Caterina Balipo gli ha posto, ossia cosa più di da fastidio di lui, la bella moglie di Cledicadio avrebbe risposto, la mattina quando si alza fa degli strani rumori, però subito Cledicadio ha specificato che sono rumori fatti con la bocca. Per non creare imbarazzo e anche perché così sembra essere vero. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione, ovviamente Caterina Balipo si sarebbe messa a sorridere innanzi a quelle simpatiche e divertenti parole. Un Cledicadio in grande stile, in gran forma, ripeto nuovamente, mi è piaciuto particolarmente, oltre ad essere un bellissimo ragazzo e anche un ragazzo super bene in gamba, di sani principi. A voi un saluto caro, iscrivetevi al prossimo video da Leandro, il narratore italiano.